Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Come sempre staremo insieme fino alle 13.30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e gli approfondimenti di questa giornata che si apre purtroppo con la notizia dell'ennesima tragedia della strada verificatasi nella notte in Veneto. Uno spaventoso incidente si è verificato a Zanè nel Vicentino. Due auto si sono scontrate frontalmente, una si è incendiata a seguito dell'urto violentissimo, un morto e due feriti. Il bilancio, vediamo. Zanè, un morto e due feriti è il tragico bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte in via Monte Pasubia al confine con il comune di Tiene. Un frontale violentissimo tra due auto, una Volkswagen Golf e una Renault Megane, avvenuto per caso in corso di accertamento da parte dei carabinieri poco prima di mezzanotte lungo la provinciale 66. Ad attirare l'attenzione dei passanti che hanno lanciato l'allarme e prestato i primi soccorsi, le fiamme che si sono sprigionate immediatamente nella Golf. Nel suo abitacolo due persone, un uomo e una donna, gravemente ferite, sono estratte e estratte proprio dagli automobilisti di passaggio, mentre l'autista della Megane è riuscito autonomamente a mettersi in salvo. Immediato all'arrivo di vigili del fuoco e personale medico del SUEM che dopo aver stabilizzato i feriti li hanno trasportati all'ospedale, dove purtroppo per la gravità delle ferite riportate nella notte è deceduto l'autista della Golf. Ed i vigili del fuoco stanno cercando da ieri sera un'auto molto probabilmente finita nelle acque del Po. Sono andate avanti le ricerche fino alla tarda serata di ieri e sono riprese questa mattina. I vigili del fuoco stanno intervenendo da venerdì sera sul Po nel comune di Taglio di Po per un'auto probabilmente finita all'interno del fiume. L'allarme è stato dato dopo l'individuazione di alcune tracce lasciate sull'erba da un'auto, probabilmente finita poi nel corso d'acqua. I vigili del fuoco, accorsi con il personale del distaccamento di Adria, del nucleo sommozzatori di Bologna, elitrasportato e successivamente con il nucleo di Venezia, hanno iniziato le ricerche anche con l'aiuto di un gommone dotato di ecoscandaglio. Le ricerche sono state poi interrotte per il buio nella tarda serata. Sabato mattina le ricerche dei vigili del fuoco sono riprese alle prime luci dell'alba. E purtroppo c'è anche la notizia di un altro incidente che si è verificato sempre la scorsa notte a Codevigo lungo la strada dei pescatori. Il bilancio è di 5 persone ferite, tutte gravi, ma al momento pare che nessuno sia in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Lo schianto è avvenuto attorno al mezzanotte e mezza dei feriti. Tre sono stati trasportati all'ospedale di Padova, due in quello di Chioggia dove sono tuttora ricoverati. E torniamo ora all'ennesima tragedia del lavoro che si è verificata in Veneto. È accaduto ieri a Mestre dove un tecnico è precipitato dal tetto del teatro Momo. È precipitato da un lucernario che sotto il suo peso ha ceduto, aveva 45 anni, viveva a Mira, lascia la moglie ed un figlio. Sono quasi le due del pomeriggio quando il corpo di Mattia Dittadi lascia il teatro Momo di Mestre. Le indagini sulle cause dell'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita rimangono coperte dal più stretto riserbo. Di certo c'è che Venezia e il Veneto piangono un'altra morte sul lavoro. Dittadi era tra i responsabili per il nord-est di Enricchipo, una grossa azienda che offre tra l'altro diversi servizi di manutenzione degli edifici. Sarebbe caduto da un lucernaio che forse ha ceduto attorno alle 10.30 di mattina, mentre assieme a dei tecnici comunali era impegnato in un sopralluogo per delle infiltrazioni sul tetto. Aveva 45 anni e viveva a Oriago di Mira. Appresa la notizia, il sindaco Marco Dori ha immediatamente espresso il cordoglio del comune. Io non ho dirette conoscenze, però in queste ore sono già arrivate delle telefonate di persone che lo conoscevano. Sono molto anche loro spiazzate, tristi, perché è un ragazzo che si faceva veramente voler bene da tutti. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti lo spisa, i carabinieri e la polizia locale. Per tutta la mattina l'intero isolato è stato recintato da via Dante a via Cappuccina. Dittadi era sposato con un figlio. Penso che in questi momenti l'unica cosa che possiamo fare è veramente pensare a chi purtroppo non potrà più avere questo affetto e a loro, alle famiglie, ai parenti, veramente è il nostro più vicino cordoglio. Erabia e cordoglio per l'ennesima tragedia del lavoro nella nostra regione. Sindacati e partiti dell'opposizione chiedono con forza più risorse per la sicurezza sul lavoro. È l'ennesimo incidente sul lavoro, cioè ho i brividi. Pensare che stavo organizzando una manifestazione per il giorno 11, che abbiamo 4 ore di ciopera sulla sicurezza, sembra una cosa che non finisce mai. Cioè veramente sono senza parole. Segretario generale della Will del Veneto, Roberto Toigo ha l'ufficio vicinissimo al Teatro Momo ed è stato tra i primi ad arrivare sul luogo in cui ha perso la vita Mattia Dittadi, precipitando durante un sopralluogo al tetto dell'edificio. Negli stessi istanti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, impegnati in una conferenza a Palazzo Ducale, invitava ad un minuto di silenzio, esprimendo il più profondo cordoglio a nome di tutta la città. Il segretario generale della CGL di Venezia, Daniele Giordano, invece è durissimo. Non servono i minuti di silenzio, non serve il cordoglio, servono azioni concrete. L'obiettivo deve essere infortuni zero e tutti dobbiamo chiedere di questo conto alle nostre istituzioni. Nel solo 2022, nella sola provincia di Venezia, quasi mille persone hanno riportato un danno permanente a causa di un infortunio sul lavoro e 24 sono morte. Giovedì 11 aprile, CGL e Will hanno dichiarato uno sciopero generale con un presidio alle 14.30 di fronte alla sede di Confindustria al Vega. Monica Sambo ha ricordato che una mozione per la richiesta di più risorse per la sicurezza sul lavoro era stata presentata diversi mesi fa in Comune e non è ancora stata discussa. Servono ispettori negli Spisal, servono maggiori controlli, serve una possibilità di fare prevenzione e formazione del personale perché tragedie di questo genere non si ripetano. Secondo i consiglieri regionali da Emma Zottis e Montanariello, fa riflettere che l'incidente si sia verificato in un luogo di proprietà del Comune, dove misure e attenzioni per la sicurezza dovrebbero fare da modello per tutti. Un'osservazione analoga arriva anche dalla deputata Rachele Scarpa. Erika Baldina, del Movimento 5 Stelle, ricorda che lo scorso dicembre la maggioranza in regione ha bocciato una sua richiesta di rafforzamento dell'organico degli ispettori Spisal. Ed ancora cronaca da Venezia. Sette bed and breakfast abusivi sono stati scoperti nel fine settimana di Pasqua dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Venezia nell'ambito dei controlli sulle strutture ricettive extra alberghieri in terraferma e nel centro storico lagunare. Decine di controlli sono stati eseguiti avvalendosi anche del software dogale per la selezione dei target a maggior rischio. Le irregolarità andavano dal mancato rispetto della disciplina regionale all'imposta di soggiorno e sotto il profilo fiscale l'omessa dichiarazione di redditi derivanti dagli affitti turistici con la segnalazione di sanzioni amministrative per 42 mila euro. Per alcuni dei titolari degli immobili utilizzati per le locazioni turistiche sono stati anche avviati approfondimenti di carattere fiscale. Inoltre sono state multate altre 16 strutture ricettive per la mancata esposizione delle targhette con l'indicazione locazione turistica della classe assegnata, del codice di identificazione della struttura e dei prezzi indicati. Le fiamme gialle hanno individuato due lavoratori irregolari in una struttura ricettiva a Venezia e in una pescheria a Chioggia, a Caorla e infine in un hotel sono stati trovati quattro lavoratori italiani completamente in nero. E torniamo ora sulla maxifrode all'Europa con i fondi del PNRR. PNRR si arricchisce l'elenco degli indagati. Sentiamo. C'è anche l'ex sciatore altoatesino Alex Meyer tra le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Venezia coordinata dalla Procura Europea che ha scoperto la maxifrode messa in atto dall'organizzazione che avrebbe intercettato illegalmente fondi pubblici per 600 milioni di euro all'Europa e all'Italia e che ha portato a 24 misure cautelari. Originario di Bressanone, residente in provincia di Verona ha diversi precedenti con la giustizia. Nel 2022 fu accusato dal Tribunale di Ferrara di riciclaggio e falso e nel 2007 patteggiò a Bolzano per un caso di auto a noleggio sparite all'estero. In precedenza, nei primi anni 2000, sarebbe stato anche arrestato per droga. Il 54enne è stato bloccato in Slovacchia nei giorni scorsi con una donna di origine ucraina. Arrestata anche lei, oltre all'albanese, residente sempre nel veronese, Tana Smitri, classe 79, e a Roberto De Chiara, classe 69. Sono loro i quattro di Verona. Maier, insieme alla donna, sono accusati di essere al vertice del gruppo che avrebbe gestito la rete di false società, costituite appositamente per acquisire fondi in modo illegittimo. Prima quelli del PNRR, dedicati alla digitalizzazione, poi quelli per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese. In tutto, otto persone in carcere, 14 ai domiciliari. Tra gli altri arrestati in Veneto, ci sono il 46enne Federico Bianchi di Rovigo, il 71enne Franco Enrico Borghi, residente a Brescia, arrestato a Treviso. L'interdittiva del divieto di esercitare, ha invece raggiunto il professionista 71enne Franco Mazzarotto di Jesolo. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, tra gli indagati una coppia di prestanome, residente in provincia di Udine, 61 anni lui, 44 lei. Ai domiciliari, invece, Yeveniva Ovdjenko, Ucraina dell'80, residente in provincia di Udine, e il goriziano 79enne Francesco Furlan. Operazione della Guardia di Finanza, che ha sequestrato un'area di 200 metri quadrati con 5 tonnellate di rifiuti abusivi. Denunciato il responsabile. Siamo nel Padovano. I finanzieri di Adria, in collaborazione con la sezione aerea della Guardia di Finanza di Venezia, hanno individuato un'area di oltre 200 metri quadri, sulla quale erano depositati rifiuti di vario genere, stimati in circa 5 tonnellate, e classificati come speciali, sia pericolosi che non pericolosi. In particolare è stata riscontrata la presenza di rifiuti derivanti dalla demolizione di manufatti di Eternit e altri detriti edili, serbatoi in metallo, elettrodomestici, pneumatici, tubazioni, plastiche, materiale ferroso e legnoso, abbandonati in maniera incontrollata. La zona interessata è collocata nella prossimità del fiume Po ed è a fianco di alcuni terreni agricoli. Dal 2023 l'abbandono di rifiuti da parte dei cittadini costituisce reato. L'area è stata così sequestrata dalla Guardia di Finanza e il responsabile è stato denunciato. Tre banditi sono stati arrestati dai carabinieri di Padova dopo che sotto l'effetto di alcol e droga avevano seminato il panico e rapinato una tabaccheria. Un poveriggio di ordinaria follia seminando il panico tra le province di Venezia e Padova. Tre banditi sono stati arrestati dai carabinieri di Padova dopo aver commesso una rapina a Vigonza, rubato una carta di credito e minacciato con una pistola dei passanti. I Manette, un 32enne residente a Mira e due romeni di 36 e 31 anni, hanno guidato per ore sotto l'effetto di alcol e droghe. Hanno seminato il panico sostanzialmente in alcune località della provincia di Padova e anche della provincia di Venezia perché si sono oltre a perpetrare un furto aggravato su un'autovettura in sosta e la rapina aggravata ai danni di una tabaccheria di Vigonza hanno poi avvicinato delle persone che erano alla guida di autovetture piuttosto che a piedi e le hanno di fatto così spaventate e minacciate impugnando la pistola. A bordo di una Mercedes classe C nera con il volto coperto hanno prima affiancato un giovane a piedi a Mira e con la scusa di chiedere informazioni l'hanno terrorizzato puntandogli contro una pistola poi rivelatasi falsa. Poi sono arrivati a Vigonza dove hanno fatto irruzione una tabaccheria il negoziante ha reagito e i tre sono scappati con numerosi pacchetti di sigarette. Mezz'ora dopo il terzetto a Borgorico nell'alta Padovana ha scassinato un'auto in sosta rubando una giacca con un banco ma da cui hanno prelevato 500 euro. La folle corse proseguita a Selvazzano dove nel parcheggio del supermercato lì hanno avvicinato una donna in macchina con la figlia piccola e l'hanno minacciata con la pistola. Dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto al 112 al numero di emergenza siamo riusciti a ricostruire tutti gli spostamenti di questa macchina una Mercedes classe C di colore nero con i tre soggetti a bordo che si aggiravano per la provincia di Venezia e la provincia di Padova a perpetrare alcune tipologie di reati travisati e impugnando una pistola che poi si è rivelata essere una pistola scacciacani. Grazie alle segnalazioni finali di testimoni che hanno notato i tre uomini litigare in un parcheggio di Rubano e alle rilevazioni del sistema Targa System che segnalava i passaggi dell'auto i carabinieri hanno ricostruito il tragitto e fermato i tre malviventi che sono stati arrestati per rapina, resistenza, furto e danneggiamento. Ieri visita in città a treviso del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari dopo il sopralluogo al carcere minorile l'incontro con il sindaco Conte la struttura per detenuti minorenni verrà dismessa entro due anni. Questo luogo sarà presto, speriamo, entro la fine dell'anno i primi mesi del prossimo individuato nel nuovo IPM di Rovigo. L'annuncio a Cassugana del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari dopo la visita al carcere minorile di Treviso entro due anni la struttura verrà dismessa e i ragazzi trasferiti a Rovigo. Sarà ovviamente un luogo capace di affrontare definitivamente anche problematiche che qui invece si vivono cioè spazi troppo piccoli, inadeguati e di difficile manutenzione. Una richiesta che arriva proprio anche dal personale da chi lavora all'interno di questo mondo il IPM di Treviso sarà invece un domani destinato a magari i semi liberi o comunque insomma in ogni caso al carcere attuale per adulti. Uno spazio vetusto ereditato dal passato che considerava il carcere come ultimo anello del mondo della giustizia fa sapere Ostellari di qui la necessità di investire sul personale dalla polizia penitenziaria agli educatori figure fondamentali nei percorsi di rieducazione e sono stati proprio i giovani protagonisti di episodi di microcriminalità il centro dell'incontro con il sindaco Mario Conte. Sono in aumento i detenuti minori e minori perché? Perché ovviamente sono in aumento i crimini commessi dai minori. È uno dei temi fondamentali che deve affrontare con l'amministrazione locale. Parlare ai genitori, parlare alle scuole, parlare a chi ovviamente è il nucleo fondamentale insomma della nostra comunità e fare questo significa anche ad esempio che ne so, ipotizzare progetti anche di integrazione vera come quella che qui si sta facendo. Il riferimento al progetto lanciato dal primo cittadino Treviso Integrazione un tavolo di concertazione tra amministrazione e i rappresentanti delle comunità straniere presenti nel territorio che si riunirà con cadenza bimestrale per affrontare problemi e opportunità e costruire insieme il futuro della città. Non uno scarico di responsabilità precisa il sindaco ma una condivisione di obiettivi. Primo incontro tra 15 giorni. La cronaca ora ci porta a Padova dove sono sempre più frequenti gli episodi di spaccio di droga affidati a Pusher sempre più giovani. Vedo che abbiamo in collegamento il nostro Federico Fusetti. Buongiorno Federico, a te. Buongiorno Marta siamo qui a Padova con Cristian Roccaiende per parlare di questa tendenza il questore lo ripete da alcune settimane sempre più spacciatori giovanissimi 15 anni addirittura che vengono incaricati dagli adulti di scambiare la droga con i soldi ed è un fenomeno preoccupante forse gli adulti che fanno così spesso sono dei connazionali che usano, sfruttano questi ragazzini pensando magari di farla franca fra poco invece vi faremo sentire che non è così cioè che la questura riesce poi anche a tra virgolette incastrare gli adulti prima però insomma chiedo a Eleonora Mosco che è capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Padova se è un fenomeno che deve preoccupare tutti noi cittadini Beh assolutamente sì è un fenomeno crescente quindi sempre più preoccupante perché si sta consolidando come una vera e propria piega sociale e che quindi deve essere trattata sotto il profilo sociale quindi di prevenzione ma anche come ben sta facendo il questore che ringraziamo unitamente tutte le forze dell'ordine anche sotto il profilo repressivo perché si tratta di veri e propri reati Pensiamo solo che oggi purtroppo a Padova un grammo di roine quindi tre dosi costano 10 euro questo già sta a dimostrare come questi baby pusher diventino proprio un'esca per i loro coetanei e quindi assolutamente le iniziative poste in essere da quest'ora vanno assolutamente anche dal nostro punto di vista nella giusta direzione Ecco infatti proprio di queste ore un ennesimo anzi sono più operazioni della squadra mobile che hanno proprio come obiettivo combattere lo spaccio di strada sentiamo il bilancio delle ultime ore La tendenza a Padova è chiara e trova purtroppo conferma anche negli arresti e nelle denunce degli ultimi giorni sono sempre di più i casi in cui nello spaccio di strada sono utilizzati i minori come pusher gli agenti in Borghese si erano insospettiti per la frequente presenza di un giovanissimo straniero seduto ai tavoli di un bar in via dei Colli in compagnia di un suo connazionale tunisino trentenne già noto ai poliziotti l'adulto riceve una telefonata il quindicenne si alza e va a scambiare droga con soldi in una via lì vicina poi torna al bar gli agenti intervengono e grazie alle conversazioni telefoniche ritrovate arrestano il trentenne che aveva appattuito la vendita della droga poi mandando materialmente il ragazzino di 15 anni straniero non accompagnato che è stato affidato ai servizi sociali del comune di Padova per il successivo collocamento in una comunità intanto un altro minore questa volta di 17 anni abitante in provincia è stato controllato dai poliziotti e trovato in possesso di 17 grammi di hashish che teneva nella tasca del giubbotto altri 22 grammi della stessa sostanza li custodiva invece a casa perquisita alla presenza della madre il giovane è stato denunciato alla procura per i minori di Venezia in altri due interventi dei poliziotti della squadra mobile è stato sequestrato un quantitativo alto di droga 50 grammi di marijuana a un 24enne romeno a San Giorgio in Bosco che nell'alloggio aveva altri 45 grammi di marijuana e 17 di cocaina infine un 23enne tunisino incensurato è stato denunciato dagli agenti perché trovato in possesso di tre dosi di cocaina durante un controllo sull'ungargine Brenta al termine delle procedure di identificazione lo straniero è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per l'avvio delle procedure di espulsione ecco quindi avete sentito l'impegno della questura su questo fronte è alto ed è in continuo divenire anche il mercato è brutto da definire così ma purtroppo è questo e tra l'altro il pericolo è che si possa anche allargare questo fenomeno sì il fenomeno dei baby pusher poi può declinarsi anche in una crescita del fenomeno delle baby gang appunto purtroppo un aspetto negativo che sta prendendo piede in centro pensiamo al Duomo piuttosto che all'Arcella alla Guiz insomma in altri quartieri dove bisogna assolutamente coniugare la parte di prevenzione sociale attraverso un coinvolgimento forte dei grandi pilastri nella crescita educativa di un ragazzo e quindi della scuola della famiglia dello sport che tolgano dalla strada questi ragazzi che possono essere insomma in un periodo anche di crisi personale o di dispersione scolastica ricordiamo che a Padova abbiamo un 10% di dispersione scolastica quindi insomma una percentuale sempre più alta ma accanto a questa parte di prevenzione sociale laddove ci sono dei reati come lo spaccio come le risse come gli accoltellamenti come poi la diffusione anche sul web dove questi ragazzi poi si vantano di questi fenomeni è giusto attuare e mettere in pratica queste misure repressive del resto il sottosegretario stellari a Roma a livello nazionale con il DL Caivano sta adatto insomma un imprinting molto forte ben chiaro su come bisogna intervenire quindi benvenga che anche il questore ne segua la linea a livello locale ci auguriamo che la politica faccia la sua parte come lega noi ci batteremo in questo senso grazie grazie a Delenora Mosco fenomeno da tenere sotto osservazione Marta e quindi ovviamente sentiremo gli sviluppi altre operazioni ci saranno sicuramente da parte della questura nelle prossime ore grazie grazie a Federico Fusetti per questo collegamento da Padova andiamo a Mestre con Ilaria Marchiori per l'ennesimo caso di rissa tra bengalesi un'altra notte di terrore Ilaria a te buongiorno sì buongiorno a te Marta buongiorno ai nostri telespettatori vi faccio subito vedere che ci troviamo in via Montenero che è una delle vie laterali di via Piave dove si è consumata l'ultima rissa tra bengalesi dopo quella del lunedì di Pasquetta e del martedì seguente sempre la sera però nella zona di via Poerio a Mestre questa volta giovedì notte si sono spostati in via Montenero dunque in questa zona che è appunto come dicevo una laterale di via Piave che è una delle zone clou di Mestre per quanto riguarda la sicurezza insieme a me qui c'è uno dei referenti uno dei portavoci della comunità bengalese Prince Aulader per giovani per l'umanità Prince ci dica lei che cosa sta succedendo perché la comunità bengalese si è sempre contraddistinta finora proprio per i suoi modi pacifici per essere una comunità anche unita e che rispetta le regole che cosa sta succedendo? Praticamente questa è una situazione anomala perché in quanto quello che sta succedendo non fa riferimento a tutta la comunità ma bensì una piccola città che c'è in Bangladesh che si chiama Abdulapur e praticamente questa situazione è venuta fuori dopo che per un'associazione due gruppi di una città che sono all'incirca 400-500 persone di questa città che vivono a Mestre queste persone hanno litigato tra di loro io vedevo da settimane che stavano facendo riunioni per trovare una soluzione finché è successo un episodio che uno ha aggredito a un ragazzo e da là è venuto a fare tutta questa situazione di divisione di due gruppi all'interno di una città piccola la comunità bengalese non è questa la comunità bengalese è ben altro la comunità bengalese è composta da lavoratori imprenditori per bene e che lavorano e che sono seri purtroppo come voi ben sapete in una società ci sono delle mele marce e purtroppo ci sono alcune mele marce che rovinano in un omito di tutta la comunità che purtroppo non è così noi come comunità bengalese io come uno dei referenti e come giovani per umanità noi chiediamo alle forze dell'ordine che hanno già individuato alcuni soggetti che hanno partecipato a queste aggressioni a queste risse che individuano il resto dei individui e che li mettono di fronte all'autorità purtroppo c'è una mancanza di conoscenza della buona convivenza e del rispetto delle leggi ci sono alcuni ragazzi che sono arrivati da poco in Italia e purtroppo non sanno nemmeno dove sono e quindi noi come giovani per umanità o altre associazioni cercheremo di fargli capire la la buona convivenza di fare dei piccoli riunioni di fargli capire la buona convivenza e il resto noi siamo veramente dispiaciuti di questa situazione perché poi piccole cose ricadono su una comunità grande che è composta da più di 30-40 mila persone in tutta la provincia di Venezia e quindi la cosa ci dispiace e purtroppo in situazioni del genere le persone altri miei colleghi referenti non vogliono parlare invece secondo me bisogna parlare bisogna condannare questa situazione perché non tutti sono così la maggior parte sono persone per bene e quindi ci dispiace per quello che è successo e io per quello che posso proverò a contattare queste persone almeno i referenti di questa città che sono altri 5-6 persone e proverò a capire cosa sta succedendo e che comunque di trovare una soluzione in modo da non creare altri peggiorare la situazione infatti posso confermare rispetto a quanto ha detto anche Prince che è stato difficile riuscire a parlare con altri referenti della comunità bengalese proprio per questo motivo evidentemente una sola cosa Prince lei ha detto di volerli incontrare quindi parliamo di persone che sono arrivate qui da poco no io con le persone con cui le voglio parlare sono persone che sono già da tanto tempo che sono qua alcuni che sono arrivati da poco con il decreto flussi quindi negli ultimi tre anni dopo la disgrazia che è successa a Cutro il governo ha dato la possibilità di venire le persone in Italia legalmente e sono venite tantissimi bengalese dall'estero e questi bengalese non hanno nessuna conoscenza di questa cultura di questo paese quindi spesso pensano di essere in Bangladesh invece non si rendono conto che qua sono per lavorare per stare bene per stare in tranquillità grazie a Prinza Olauder qui da maestra è tutto restituisco la linea allo studio grazie grazie Ilaria buon lavoro a te ai colleghi della redazione di Venezia da maestra andiamo a Belluno ora per parlare dell'evento in programma questa sera in piazza dei martiri dove cristiani cattolici e musulmani di fede islamica celebreranno insieme la fine del Ramadan episodio festoso e pubblico che pone il capoluogo capofila del dialogo interreligioso nella città dolomitica sentiamo Tiziana Bolognani è maturato insieme in una logica di fraternità l'evento di questa sera che celebra la fine del periodo di digiuno del Ramadan che il vescovo di Belluno Feltre e Monsignor Renato Marangoni con l'imamma di Belluno Zaccaria hanno organizzato un momento di condivisione che pone anche Belluno capofila di queste iniziative che come dire ricalcano anche il messaggio di Papa Francesco della fratellanza Sì è nato maturato insieme questa idea di condividere un momento pubblico di una iniziativa che avevamo già sperimentato negli anni precedenti nell'interruzione del mese di Ramadan quel momento di pasto comune che abbiamo condiviso e quindi questo insieme spiega proprio lo sfondo l'orizzonte dentro il quale si colloca e vorremmo davvero che diventasse un segno e un richiamo che è questa la logica con cui andare avanti e con cui noi mettiamo insieme le nostre tradizioni e le nostre fedi La logica della conoscenza sopra l'ignoranza l'ignoranza che ai noi e soprattutto in tempi recenti possiamo dire a Imama che è quasi voluta? Sì secondo me è quasi voluta soprattutto poi il problema è che non conoscere gli altri quindi anche questo è un tipo di ignoranza crea paura quindi più noi ci conosciamo più conosciamo l'altro più abbiamo fiducia in lui più il legame di fratellanza diventa più più grande Voi avete condiviso un viaggio in Marocco e lì probabilmente è nata anche quest'idea di condividere il pasto perché è importante condividere il pasto è una cosa io da quello che ho sentito ho letto la condivisione del pasto è la cosa più importante per aprire tutti i legami un pasto essendo una cosa semplice però ha un grande valore in tutte le religioni in tutte le fedi in tutte le comunità per l'appunto questa sera alle 19 e 51 non stupitevi se anche per la precisione di questo orario è l'orario del tramonto è un momento fondamentale per richiamare anche molti cittadini bellunesi a partecipare a questa condivisione di pasto a questo gesto di fratellanza di conoscenza e di amore sì sì è un tempo anche dico preciso perché diventa importante allora non si dimentica quando avvenne così se ricordiamo un momento decisivo nella vita e quindi dire anche l'orario è l'orario del tramonto del sole per le nostre tradizioni di fede è molto significativo il tramontare del sole è il momento anche della raccolta è il momento di mettere insieme è il momento di condividere grazie allora Tiziana Bolognani noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità a tra poco eccoci di nuovo in diretta ritorniamo con la cronaca nel trevigiano organico all'osso in agitazione il personale amministrativo della procura si tinda avanti alla prefettura la risposta da Cassugana del sottosegretario alla giustizia Ostellari i lavoratori amministrativi della procura di Treviso sono tornati in stato di agitazione per la carenza di personale dopo un incontro con il vice perfetto Chelsea e il procuratore Martani i rappresentanti dell'RSU della CISL Funzione Pubblica hanno minacciato lo sciopero se non saranno fornite risposte concrete la carenza di personale denunciata già lo scorso 7 marzo risulta in costante peggioramento a causa dei mancati sostituti per i dipendenti posizionati o trasferiti in procura a Treviso su una dotazione organica di 42 dipendenti e siamo solamente in servizio effettivo in 30 di cui peraltro ben 6 quindi il 20% di questi 30 vengono da altre amministrazioni nell'ambito di un protocollo intesa che peraltro scade il prossimo mese di maggio e quindi la prima cosa che abbiamo chiesto è che si possa divenire un rinnovo per consentire a queste 6 persone di rimanere in procura a Treviso altrimenti la situazione sarebbe assolutamente al collasso in visita al carcere minorile il sottosegretario della giustizia Andrea Ostellari ha voluto dare una risposta ai lavoratori vi posso dire con assoluta tranquillità che il ministero sta facendo un'opera straordinaria rivoluzionaria rispetto al passato proprio un tema di investimento sul personale la convenzione e i protocolli che ad esempio si sono fatti qui in Veneto hanno funzionato e funzioneranno ovviamente nel futuro perché permetteranno a molti i doni per altre graduatorie di essere assunti presso il nostro ministero e quindi di lavorare qui direttamente in questi luoghi siamo consapevoli ripeto della difficoltà ma siamo anche determinati nel continuare in questa opera vedrete che alla fine di questa legislatura le cose saranno migliori per loro per i cittadini che avranno quindi maggiori forse risposte rispetto ad oggi e restiamo a Treviso perché torniamo a parlare del grave fatto di cronaca che si è verificato ieri in pieno centro siamo in Vicolo Rialto protagonisti ancora una volta dei giovanissimi Bulli ci colleghiamo con Daniela Sizia alla collaborazione tecnica di Alberto Pivetta a te a Daniela buongiorno buongiorno Marta buongiorno telespettatori sì ci troviamo qui dove è avvenuta l'aggressione da parte di due minorenni l'ennesimo fatto di violenza non solo che coinvolge dei ragazzini ma soprattutto nel cuore di Treviso ovviamente cittadini ma anche commercianti sotto shock per quello che è avvenuto ieri io mi trovo proprio in compagnia di Tommaso che ha il negozio proprio qui di fronte ed è proprio qui che è iniziata questa aggressione Tommaso che cosa avete pensato quando avete sentito le urla? noi eravamo dentro il negozio abbiamo sentito delle urla e soprattutto dei colpi alle vetrine perché hanno scaraventato i bidoni delle immondizie e si sono lanciati proprio addosso a quest'angolo della vetrina e si può vedere poi anche dalle nostre telecamere di sorveglianza e noi siamo usciti direttamente e abbiamo chiamato la vigilanza visto che abbiamo il collegamento ovviamente essendo una gioielleria e poi è in collegamento con le forze dell'ordine quindi la polizia è intervenuta praticamente subito e però un episodio di una violenza veramente inaudita questa mattina quando hai aeri aperto che cosa hai pensato? noi siamo relativamente tranquilli proprio per la copertura con la vigilanza e le forze dell'ordine che abbiamo in quanto gioiellieri il problema più che altro riguarda sabato pomeriggio perché la gente non è assolutamente tranquilla di passeggiare qua per il centro soprattutto questa zona di piazza Borsa che è veramente invivibile insomma una situazione avete capito che è insostenibile comunque ripercorriamo ora in questo servizio quello che è accaduto ieri intorno alle 13 in questa zona che lo ricordiamo è nel cuore di Treviso e poi invece sentiremo Gino Balbinotte che è un ex poliziotto e fa parte anche di Fratelli d'Italia che è intervenuto per cercare insomma di tenere di trattenere uno dei due minorenni che fra l'altro lo ricordiamo anche uno dei due ha anche ferito due agenti di polizia sentiamo dunque il servizio ora è 13 e 30 in pieno centro città due ragazzini di 17 e 15 anni vengono rimproverati da una sessantenne mentre percorrono in bici galleria Rialto bastano poche parole della donna che sta rincasando con sua figlia per far scattare una discussione via via sempre più forte pochi secondi dopo vedendo la scena un cinquantenne che passa di lì per caso interviene in suo aiuto e i minorenni visibilmente alterati reagiscono lanciandogli in testa un bidone dei rifiuti e colpendolo a calci e pugni praticamente questo signore qua proprio questo qua vestito d'arlecchino ci ha alzato le mani per primo ci ha alzato le mani per primo e poi praticamente praticamente cosa è successo è successo che le cose si sono accese niente e mio amico gli ha tirato un bidone in testa e tutto perché perché questa signora qua ha detto che noi stavamo andando in bicicletta dentro una galleria mentre che mi ero la di ciapparmi a pugni col boccia mi ha tirato il bidone in testa è caos lungo la via interviene la polizia ma nemmeno l'arrivo della volante spegne la spavalderia e la sfrontatezza dei ragazzi nei confronti del cinquantenne aggredito e delle altre persone intervenute per calmare gli animi sebbene rimproverati più volte dagli agenti i ragazzi continuano a scherzare e a riprendere con il telefonino le persone presenti la signora ha rimesso l'ho schivata così ma la signora io anzi non l'ho neanche vista in realtà all'inizio io sono uscito di qua il mio amico è iniziato a rompere le pare il mio amico gli fa ma sono stronzati capito il diciassettenne e il quindicenne vengono accompagnati in questura per l'identificazione ma durante il tragitto il più grande dei due aggredisce a calci e pugni un agente ferendolo alla mano non contento anche in ufficio ferisce un altro poliziotto allo zigomo con una testata arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale viene portato nel carcere minorile di Santa Bona l'ennesimo episodio di violenza in centro situazione divenuta intollerabile anche in vicolo rialto come racconta il marito della donna sceso in strada tra le urla e gli atteggiamenti così di sfida nei confronti di chi ci abita insomma anche di anziani tra l'altro il sindaco Mario Conte ha presa la notizia ha promesso di parlare sia ai ragazzi che ai genitori questi ragazzi si faranno carico delle loro responsabilità però dovranno farsi carico delle loro responsabilità anche i genitori quindi sarà mia cura anche in questo caso dare mandato all'avvocatura civica per capire cosa possiamo fare perché questo tipo di comportamenti non è in alcun modo tollerato nella nostra città Un fatto dunque di violenza inaudita come avete sentito e soprattutto la cosa che sta emergendo Gino Balbinot è una mancanza assolutamente di rispetto non solo nei confronti di adulti da parte di questi ragazzini ma anche proprio nei confronti delle divise perché poi fra l'altro uno dei due ha anche ferito due agenti Ma è incredibile vedere delle persone che reagiscono in quel modo con la presenza di istituzioni che si stavano comportando in maniera assolutamente consonale in carico Io credo che siano cambiate sicuramente ormai le regole di ingaggio ma una spropositata violenza tra l'altro inutile nei confronti di poliziotti che in quel momento stanno solo cercando la verità dei fatti è qualcosa che rimando alla maleducazione generale di queste persone purtroppo sempre più stranieri Ecco fra l'altro ci diceva anche prima il Tommaso ci diceva insomma la gente ha paura di camminare in questa zona soprattutto poi gli anziani c'è il timore soprattutto la sera cosa si può fare di più insomma una zona che viene monitorata lo sappiamo dalle forze dell'ordine eppure poi avvengono questi fatti ma in questi mesi stiamo lavorando veramente in maniera importante con la municipalità con il sindaco con la giunta i nostri consiglieri gli appartenenti alla giunta stanno facendo dei progetti alcuni sono già stati in qualche modo messi in atto e quindi questa collaborazione penso che possa portare non tanto a quello che sono le ricerche di educazione che passerà attraverso decenni se non centinaia d'anni però in questo momento c'è bisogno da parte nostra una fermezza che permetta a questa città di continuare a vivere per quello che tutti vogliono una serenità che sta mancando e sta cominciando a diventare preoccupante per tutti lei fra l'altro era qui e ha tentato di bloccare uno dei due ma sì una reazione assurda io lo tenevo da dietro e soprattutto altre persone che sono intervenute hanno tentato di bloccarli e c'era una risposta che era vergognosa nei confronti non solo prima di noi ma poi anche con le forze dell'ordine vuol dire che proprio non c'è più un rispetto minimo delle istituzioni e delle persone che non cercano sicuramente la rissa come fanno loro ma cercano di vivere veramente una serenità che non c'è più Marta questa dunque è la situazione qui una situazione difficile preoccupante e che gli sconcomercianti dovrà comunque in qualche maniera essere risolta qui da Treviso è tutto Marta se non hai domande ti restituisco la linea grazie grazie Daniela per questo collegamento da Treviso noi ora ci spostiamo nel Vicentino siamo a Mussolente dove si è appena collegata la nostra Vanessa Banzato con l'assessore regionale alla protezione civile Gian Paolo Bottacin per una grande esercitazione di protezione civile in corso appunto a Mussolente di cosa si tratta Vanessa? buongiorno 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 Marta le persone che ci stanno seguendo ci troviamo proprio all'interno del COC il centro operativo comunale a Mussolente che è stato allestito per l'occasione di questa esercitazione di sfollamento in caso appunto di un evento calamitoso con me hai appena appunto detto anche tu l'assessore regionale della protezione civile Gian Paolo Bottacin a cui vogliamo chiedere proprio l'importanza di questi momenti di esercitazione di formazione dei tanti tantissimi volontari che partecipano e che aiutano appunto a venire incontro e ad aiutare le persone in momenti di difficoltà ma l'attività di esercitazione è fondamentale per garantire sempre di più una preparazione da parte di tutti gli addetti ai lavori e penso a partire dagli amministratori pubblici il sindaco e autorità di protezione civile ma anche di tutti i volontari che sono pur non essendo professionisti sono professionali grazie appunto alla formazione alle esercitazioni e anche tutte le attività in campo durante le emergenze vere in Veneto e anche fuori dal Veneto ma soprattutto credo sia importante e ha fatto bene il sindaco di Mussolente a coinvolgere i cittadini che spesso pensano di non essere mai colpiti da una calamità naturale ma poi quando accade magari non sono preparati a compiere quelle piccole azioni che possono rendere molto più efficace l'attività dei soccorritori penso per esempio a sapere dov'è l'area di attesa prevista dal proprio piano di protezione civile comunale per andare in quel posto perché i soccorritori arriveranno là e arrivando là chiederanno se qualcuno non ce l'ha fatta e i cittadini potranno indicare la propria casa se hanno dei familiari sepolti a seguito di un terremoto oppure il vicino di casa perché non l'ha visto nell'area di attesa o cose di questo tipo voi capite che l'attività dei soccorritori diventa molto più efficace se i cittadini fanno queste piccole azioni di collaborazione con i soccorritori tra l'altro si parla di cambiamento climatico che va a mettere a rischio soprattutto negli ultimi anni sempre di più il nostro territorio già fragile noi abbiamo registrato negli ultimi 30 anni un incremento della temperatura media del Veneto di 1,5 gradi centigradi che può sembrare poco ma in realtà è moltissimo perché come è sotto gli occhi di tutti sta aumentando in maniera importante la frequenza dei fenomeni meteo estremi si passa da periodi di grandi siccità a periodi di grandi piogge grandinate trombe d'aria nubi fragi che creano allagamenti e quindi bisogna essere pronti ad affrontare questa situazione in emergenza ma protezione civile e anche prevenzione e proprio per questo la regione si è dotata di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici abbiamo messo a terra solo negli ultimi 5 anni 2.527 cantieri di opere di difesa del suolo per oltre un miliardo di euro sono opere che magari i cittadini non vedono perché sono fatti fuori dai centri abitati ma che hanno già dimostrato la loro efficacia penso ai bacini di laminazione sono diventati famosi ma anche i consolidamenti aginali le briglie le scogliere e tutta una serie di altre opere che servono a garantire maggior sicurezza ai nostri concittadini proprio oggi 15 anni fa una delle pagine più tristi della nostra storia è il terremoto all'Aquila con centinaia e centinaia di morti è quasi una coincidenza però la tensione deve restare sempre alta Sì la data è una data significativa non so se il sindaco l'abbè scelta casualmente o se sia stata voluta certamente noi siamo in modo particolare tutta la zona della pedemontana del Veneto ma non solo un'area elevato rischio sismico e il terremoto non si può prevedere quindi in qualsiasi momento potrebbe accadere ecco perché bisogna essere assolutamente pronti sia nella gestione dell'emergenza ma anche nella fase di prevenzione penso semplicemente magari quando compriamo la casa ci preoccupiamo dell'efficientamento energetico dell'abitazione ma penso che difficilmente ci venga in mente di verificare se l'abitazione dal punto di vista sismico ha un livello di protezione sufficiente e questi sono aspetti particolarmente importanti che devono coinvolgere necessariamente anche i cittadini bene Marta da Mussolente dal COC allestito a Mussolente è tutto ti ricedo la linea grazie grazie a Vanessa Banzato e all'assessore Bottacin noi ora torniamo nel bellunese perché c'è stato il secondo caso di meningite meningococcica nel giro di pochi giorni un uomo di 55 anni è ricoverato da ieri mattina in rianimazione non è scattata la profilassi antibiotica per tutti i contatti stretti nuovo caso di meningite meningococcica nel bellunese un 55 anni di sedico è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Belluno ieri sera era arrivato in pronto soccorso con una sintomatologia importante e gli accertamenti hanno diagnosticato l'infezione subito è stato attivato il tracciamento dei contatti dell'uomo per individuare le persone che hanno avuto uno stretto rapporto con il 55 anni in ambito familiare lavorativo ed amicale nei sette giorni precedenti l'inizio dei sintomi tutti saranno sottoposti a profilassi antibiotica l'età matura del paziente rende più semplice questa attività rispetto a quella necessaria per un giovane che solitamente ha una vita sociale molto più attiva il contagio in età adulta non è molto frequente il 60% dei casi si verifica al di sotto dei 30 anni il 40% al di sopra ma calcolando che nella popolazione il numero assoluto di over 30 è molto maggiore la percentuale di contagio tra adulti cala di parecchio è un caso possibile ma non particolarmente frequente c'è da dire che la primavera è la stagione tipica un po' insieme con l'autunno di queste forme invasive importanti da meningococco il caso odierno è il secondo nel giro di una decina di giorni nel bellunese e segue quello della studentessa 18enne di Feltre colpita da meningite meningococcica dopo una gita scolastica ed una serata in discoteca per ora per ora classifichiamo questi due casi sporadici nel senso che non abbiamo messo in evidenza alcun collegamento tra i due è evidente che faremo ogni ricerca in questo senso ma non penso evidenzieremo nulla delle prime evidenze appunto che abbiamo c'è da dire che nel post covid la frequenza di queste malattie in qualche modo venendo meno a quelle misure di profilassi generale che avevamo durante il covid torna a diventare ai livelli ordinari è anche da osservare che un adulto non diciamo come dicevo non ha una casistica così frequente per quanto riguarda la fascia giovanile invece stiamo intensificando l'offerta vaccinale proprio per contenere al massimo la casistica l'istituto zooprofilattico delle Venezie punta all'aumento dell'attività di ricerca nei prossimi tre anni e stabilizza 36 collaboratori l'obiettivo per i prossimi tre anni è quello di migliorare la ricerca sanitaria potenziando le attività dei laboratori l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie dopo l'esperienza della pandemia di covid-19 punta sulla crescita dell'attività di ricerca che già in questi anni è stata potenziata rivolgendo grande attenzione agli scenari internazionali in continuo mutamento la ricerca che fa l'istituto zooprofilattico delle Venezie è una ricerca applicata noi studiamo soprattutto le minacce per la salute pubblica quindi i virus e i batteri che potrebbero essere la causa della prossima pandemia e che il covid ci ha insegnato potrebbero venire dal mondo animale proprio per prevenire ulteriori emergenze saperle controllare in modo molto tempestivo 315 progetti di cooperazione ricerca nazionale ed internazionali finanziati per oltre 22 milioni di euro 795 pubblicazioni scientifiche e contributi a convegni questi numeri di partenza per la programmazione del triennio 2024-2026 un'attività di laboratorio che supera il milione di analisi all'anno con una media di 800 controlli giornalieri sugli alimenti di origine animale e vegetale per questo l'istituto zooprofilattico ha stabilizzato in totale 36 tra collaboratori e collaboratrici si tratta di appunto ricercatori che avevano un contratto a tempo determinato e che dal primo aprile finalmente abbiamo potuto stabilizzare e questo è un grandissimo traguardo per l'istituto perché ovviamente avere personale stabile permette davvero di rilanciare la nostra attività di ricerca ma ovviamente è una bellissima notizia per loro per le loro famiglie perché è davvero una prospettiva più solida per il futuro torniamo nel bellunese perché si è ufficialmente chiusa la stagione per la rete di soccorso invernale il resoconto ha offerto spunti di riflessione sulla più recente attualità con un forte richiamo alla prevenzione in montagna sentiamo io non voglio scendere in quel caso perché ecco l'importante è che i genitori abbiano riabbracciato i loro bambini questo per noi del soccorso alpino è fondamentale un riferimento fuori di polemica rischio corso dalla comitiva di minorenni scampati a una tragedia martedì sui cadini di Misurina è il capo del soccorso alpino veneto a tornare sul caso della valanga forcella della neve e il suo è un richiamo all'importanza della prevenzione chi vuole affrontare una gitta pianificarla è bene che guardi veramente puntigliosamente i bollettini che l'ARPAV dirà ma che sono molto precisi e puntuali messaggio fondamentale lanciato questa mattina dal San Martino di Belluno nel corso della presentazione del bilancio della rete di soccorso potenziata per la stagione invernale inaugurata lo scorso 8 dicembre quasi 34.000 accessi al pronto soccorso e oltre 22.000 chiamate al 118 che si sono tradotte in 6.400 missioni 221 delle quali con l'elicottero una squadra di soccorso che ha agito in sincrono e che ha visto in campo SUEM e Forze dell'Ordine con una pattuglia di circa 800 fra donne e uomini di 16 associazioni di volontariato è stata un'attività estremamente importante perché gli interventi effettuati a supporto e in collaborazione con SUEM sono risultati essere tantissimi quindi una media di 10 ambulanze che ogni giorno si muovono per fare soccorso prevalentemente in pista un inverno di grande impegno nei comprensori sciistici sono stati registrati milioni di passaggi il che ha comportato specie per le forze dell'Ordine un surplus di lavoro di prevenzione e repressione di comportamenti sconsiderati in pista o nell'affrontare escursioni male organizzate gli illesi sono costantemente presenti in genere nella stagione invernale meno di quanto non lo siano nella stagione estiva e ovviamente in alcune condizioni è necessario inviare l'elisocorso per recuperare queste persone chiusa la stagione invernale l'Ulss Dolomiti è già proiettata la prossima estate ci avviamo verso una stagione estiva dove stiamo lavorando per un potenziamento anche qui del servizio di urgenza ed emergenza per rispondere al meglio alle chiamate pensando al secondo elicottero che ormai è una cosa come dire assodata ma pensando ad un suo prolungamento per quanto riguarda la presenza nel territorio Ed ora andiamo alla politica vedo che si è collegato ora da Vittorio Veneto il nostro Lucio Zanato Vittorio Veneto dove la Lega ha ufficializzato questa mattina la candidatura di Giovanni Vecchia Braido con il centrodestra spaccato dopo lo strappo di Dare Rega Lega e Fratelli d'Italia con Braido Dare con Forza Italia con Posocco a te Lucio buongiorno buongiorno Barta buongiorno ai telespettatori del nostro telegiornale sì sono con il candidato sindaco della Lega e altre tre liste Giovanni Braido ma sono anche con il segretario provinciale della Lega Dimitri Coini allora Giovanni Braido noi ci siamo già trovati per l'intervista ripartiamo da là cosa dire a Peppone Baffone insomma era una battuta spiritosa che voleva un attimino come dire non arquire i toni ma però far sapere che ci sono ci siamo non abbiamo paura di nessuno e andiamo per la nostra strada insomma dopo dieci anni da Cincinato si torna in campo quindici da Cincinato quindici si torna in campo con le idee chiare con serenità con tranquillità come dicevo prima i vittoriesi sanno quello che vogliono avranno il sindaco che si merita ecco lei dice qui c'è bisogno di tante piccole cose perché il sindaco deve essere di prossimità certamente non si può non vedere certe cose è impossibile l'altro giorno andavo in macchina in senso unico le strade non sono asfaltate mancano i punti luce mancano tante piccole cose che il cittadino di Vittorio ti chiede non ti chiede i voli pindarici non ti chiede la fanta politica le strutture da 20 milioni ti chiede che tu le strade degli asfalti che i negozi siano aperti che gli uffici siano aperti che si possa andare dentro liberamente senza fare la fila e aspettare mezz'ora fuori col bigliettino in mano questo chiede il cittadino ecco poi tra l'altro la presenza c'era Marta anche del governatore Luca Zai che tra l'altro ha ribadito che l'ospedale di Vittorio non è un ospedale di serie B quindi è vero essere local come sindaco ma bisogna avere anche qualche buon contatto in regione non solo questo da sempre da sempre bisogna avere qualche aiuto sovraordinato diciamo così ringrazio tantissimo Luca Zai perché è stato veramente gentile a venire non era scontato assolutamente ringrazio il segretario Dimitri Coim ringrazio tutti tutte le istituzioni della provincia di Treviso e anche il segretario regionale tutti quelli che sono venuti a sostenermi c'era tanta gente secondo me c'è tanta voglia di cambiamento c'è tanta voglia di Giovanni Braido diciamo anche un'altra cosa che oggi dopo tanto tempo è tornato a fare campagna elettorale si è preso un po' di Lexot l'abbiamo sentito prima perché era un po' teso sì ero un po' teso ma più che altro dopo tanti anni ritornare un attimino a essere così tra virgolette protagonista devi anche imparare a riparlare i contatti e quant'altro non è facile insomma bisogna però è come andare in bicicletta e io so pedalare bene bene però nella pedalata ha richiamato qualche grande pedalatore addirittura ha richiamato John Fitzgerald Kennedy John Fitzgerald Kennedy che giustamente spero di non impappinarmi di nuovo come ho fatto prima John Fitzgerald Kennedy diceva ai cittadini americani non chiedetevi non chiedete cosa l'America può fare per voi chiedetevi voi cosa potete fare per l'America la stessa cosa vale per i cittadini di Vittorio Vento io ho detto sapete cosa fare votate Giovanni Braido questa coalizione non vi pentirete bene questa è la parte diciamo così ovviamente del candidato sindaco ma invece con Dimentico Vini che abbiamo tenuto qui vogliamo fare un po' un discorso un po' più politico intanto con il segretario Stefani cosa vi siete detti oggi? ma no oggi intanto siamo congratulati reciprocamente perché insomma abbiamo superato un momento particolare qui a Vittorio Veneto e approfitto per ringraziare davanti a tutti i telespettatori Giovanni Braido per essersi messo a disposizione per aver dimostrato una grande sensibilità nei confronti della propria città dimostrato nelle due parole che ci siamo detti prima di amare la propria città e di voler stare vicino ai propri cittadini prevalentemente ascoltandoli e poi assecondandoli in tutto quello che un sindaco può fare perché un sindaco prima di tutto deve essere in grado di stare vicino alla gente però diciamoci la verità vengo proprio qua sì prima mentre aspettavamo che cominciassi in fondo abbiamo visto Tony da Re c'è un po' l'abbiamo visto noi facciamo vedere questa serie fa un po' male no? sì certo che sì però insomma alla fine la politica è fatta anche di scelte personali e Tony ha fatto questa scelta di andare da un'altra parte e la Lega resta la Lega e proprio nei momenti difficili che si vede un'organizzazione qualunque essa sia nel caso nostro un partito politico si vede la forza la forza che ha perché quando vedi che si ricompatta e quando vedi come oggi una giornata come oggi che esponenti politici di tutti i livelli sono presenti che la gente viene a vedere la presentazione del candidato capisci che sei un'organizzazione forte e che magari anche una dialettica interna frizzante ma che sa superare anche le avversità e come ha detto poco fa appunto Giovanni per un sindaco è fondamentale avere una filiera a cui fa riferimento perché tu se hai una filiera amministrativa superiore che è necessariamente legata ai partiti a cui fa riferimento puoi risolvere con maggiore efficienza con maggiore forza con maggiore velocità le necessità dei cittadini le civiche si nascondono spesso o troppo spesso quando vanno da sole dietro all'immagine di civica e poi si trovano magari da soli quando devono farete con altri comuni o con altre organizzazioni purtroppo è così la società dove viviamo è comunque una società organizzata disarticolarla non porta da nessuna parte ecco però prima il segretario Stefani ci ha detto che Tony D'Aren non ha neanche presentato ricorso vuol dire che proprio ci ha messo una pietra sopra fa ancora più male questa cosa ma questo l'avevo questo l'avevo annunciato anche in sede di direttivo regionale quando era stato convocato e si è presentato gli aveva detto che se fosse stato espulso non avrebbe presentato ricorso e così ha fatto evidentemente non lo sapevo lo sento adesso ecco l'altra cosa che è emersa oggi che dovremmo sentire questa sera Lucio ci sei perché abbiamo la pubblicità che incombe io ti devo salutare naturalmente poi vedremo questa sera nel telegiornale un'ultima battuta un'ultima battuta importantissima due secondi oggi per la prima volta io ho sentito il presidente Zaia che riconsegnerà il Veneto ha detto noi abbiamo preso gli ospedali un certo numero li riconsegniamo li riconsegno nel 2025 è la prima volta che sentiamo che lui dice finisco il mandato beh il 2025 il suo mandato intanto scade nell'autunno del 2025 la legislatura da quel che so non può essere accorciata ma evidentemente può essere allungata di qualche mese quindi o si andrà al voto nell'autunno del 2025 o si andrà addirittura nella primavera del 2026 io penso che tante cose ci siano ancora da fare e il futuro noi vorremmo continuare in futuro a fare quello che stiamo facendo ora grazie restituisco la linea grazie a tutti voi a te Marta grazie a te Lucio buona giornata e buon lavoro allora primavera del 2026 che potrebbe essere sicuramente un momento fondamentale per il Veneto perché ci saranno le olimpiadi invernali abbiamo qui con me il presidente del CONI del Veneto Dino Ponchio che ringrazio per essere nostro ospite allora linea alla regia pubblicità subito dopo torniamo in studio per parlare di sport a tra poco eccoci nuovamente in diretta prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 saluto nuovamente lo ringrazio per essere con noi il presidente del CONI del Veneto Dino Ponchio buongiorno e grazie e grazie ancora oggi è una giornata importante a livello mondiale per lo sport perché oggi è la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace che pone quindi l'accento su un aspetto particolarmente importante soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo dello sport ma certo il claim lo slogan diciamo la dichiarazione degli intenti è bellissima sarebbe bello che fossimo come nei tempi antichi in cui nell'anno olimpico delle olimpiadi si fermavano tutte le guerre sarebbe bellissimo ma non è così ciò nonostante lo sport ha una grande funzione di aggregazione e di socializzazione è una funzione ormai importante sia a livello di di vertice per olimpiadi mondiali le grandi manifestazioni che hanno la capacità di catalizzare l'interesse dei media e del mondo ma anche direi forse soprattutto una grande capacità di rafforzare alla base il concetto della cultura dello sport che è una cultura positiva ecco lo sport quindi come strumento di pace e di legame tra i popoli è quello che si è voluto sottolineare proprio con l'istituzione di questa giornata internazionale che peraltro insomma è piuttosto recente è recente e ci fa piacere è recente e ci fa piacere altrettanto l'inserimento in costituzione dello sport inserimento un po' tardivo ma è meglio tardi che mai ma questo gratifica il mondo dello sport e in qualche modo ci responsabilizza noi ma responsabilizza anche la cosa pubblica tutti ogni e qualsiasi di livello di ente pubblico perché lo sport ormai è come si può dire una area in cui si può e si deve intervenire a sostegno perché lo sport è una grande agenzia educativa ormai riconosciuta ecco a luglio quindi il prossimo appuntamento con i giochi di Parigi l'Assemblea Generale delle Nazioni Uniti ha lanciato questo appello nuovamente alla pace ad una tregua olimpica sarebbe bello diceva lei poco so l'auspicio teniamolo l'obiettivo teniamolo che sia facile da ottenere sappiamo tutti benissimo che non lo è ma certamente il momento olimpico è un momento molto alto molto sentito molto trasversale abbiamo visto spesso anche atleti che disobbedendo disobbedendo anche a ordini diciamo che venivano dall'alto hanno fraternizzato tra loro tra popoli diversi divisi e anche a volte in guerra e questa è la grande forza valenza dello sport che speriamo trionfi anche in questa occasione speriamo senza altro tutti quanti anche perché purtroppo le notizie che arrivano in queste ore sono sempre più drammatiche e preoccupanti in Veneto tra l'altro proprio domani 7 aprile ci sarà una giornata con un evento particolare a Venezia una regata di Caorline un evento di pace e di avvicinamento a quelli che sono i giochi olimpici e parolimpici che sono in programma appunto proprio anche nella nostra regione a Cortina nel nel 2026 un messaggio quindi importante che si vuole lanciare anche da questo territorio manifestazione bellissima che ha avuto ci hanno chiesto e naturalmente ho concesso il patrocinio del CONI del Veneto ma credo anche di essere presente perché ho dato la mia adesione domani mi organizzo per arrivare a questa che non è in senso stretto una competizione è una manifestazione di gioia in cui si coniugano cultura e sport che è un binomio anzi inscindibile è la stessa cosa io da sempre dico che lo sport è con l'accento cultura in questo caso domani a Venezia lo vediamo proprio messo in pratica avvicinamento quindi ai giochi olimpici e paraolimpici del 2026 Milano Cortina come siamo messi presidente ecco ecco siamo messi bene questa è la dichiarazione obbligatoria poi la realtà è che siamo un po' indietro ma come ho detto spesso l'Italia in genere ma anche noi dello sport e anche il Veneto e i Veneti sono attrezzati per fare miracoli ecco ci vuole un mezzo miracolo perché funzioni tutto e non solo la pista di Bob su cui ci siamo concentrati fin troppo le olimpiadi sono un mega evento in cui la pista di Bob è diciamo un tassello e perché i tasselli vadano tutti a comporre un puzzle funzionale e che illustri la forza dello sport italiano quello Veneto dal punto di vista dei risultati ma anche organizzativo ci vuole un mezzo miracolo ma per i mezzi miracoli siamo attrezzati quindi ce la faremo un mezzo miracolo lei dice certo che diciamo il Veneto ci mette la faccia questa volta quindi sì ci mette la faccia ma ci mette anche dei bei soldini che sono il substrato su cui poi si poggiano quasi tutte le organizzazioni specie a livello olimpico come dico sempre le olimpiadi sono un'altra cosa non sono paragonabili a niente a nessun mondiale ma neanche a quello del calcio sono 42 44 mondiali contemporanei quindi è la summa di tutto io ho avuto la fortuna di viverle da dentro un po' di volte e se tutti coloro che partecipano siano atleti gli atleti ma anche quelli come me che hanno fatto gli official dicono tutti che le olimpiadi sono un'altra cosa una ragione ci sarà e ci sarà senz'altro presidente tornando alle olimpiadi quelle che ci saranno quest'estate in Francia come dal punto di vista atletico come siamo messi come regione come regione veneto ma il veneto diciamo il triveneto ma mi fermo al veneto è la cassaforte dove sono chiusi i metalli preziosi che porta a casa l'Italia lo è in modo generale trasversale a tutti gli sport noi eccelliamo in tutto diamo con gioia atleti di altissimo livello a tutti i gruppi sportivi militari che sono collocati quasi tutti nel Lazio a Roma per cui il Lazio poi se si vedono le statistiche prende in teoria più medaglie del veneto ma le medaglie poi nascono il loro DNA è molto spesso nel veneto e noi daremo il nostro contributo come regione leader in Italia perché se facciamo le proporzioni tra abitanti e risultati con la Lombardia che è il paradigma sempre che si usa per dire che ha più risultati di tutti se facciamo un rapporto noi siamo la Lombardia siamo noi come mi piace dire ecco presidente chiaramente i risultati e gli atleti si ottengono ovviamente con un coinvolgimento sempre più ampio dei giovani con strutture anche sportive adeguate in questo senso diciamo che cosa si sta facendo in Veneto dopo magari parliamo anche della salute poi perché anche oggi è una giornata proprio dedicata allo sport e alla salute al valore dell'importanza non solo campioni ma anche ragazzi in salute facendo sport lo sport si declina in tanti modi compreso naturalmente quello della salute anzi è proprio diciamo un cavallo di battaglia che sta prendendo sempre più piede ma dal punto di vista impiantistico devo dire che finalmente finalmente anche qui con un po' di ritardo ma devo riconoscere che la regione Veneto quest'anno ha fatto tra virgolette quel mezzo miracolo che dicevamo prima perché ha moltiplicato per quasi più di 10 volte lo stanziamento che dava allo sport rispetto agli anni scorsi quindi ci saranno circa tanti milioncini per gli impianti circa 24 e circa 3 per lo sport praticato per lo sport di base che ci interessa molto perché è dalla base che si crea l'altezza naturalmente cioè il vertice e questi soldi serviranno non tanto per fare nuovi impianti perché noi impianti ne abbiamo in questo momento il problema degli impianti nel Veneto e non solo è che non sono a norma e quindi bisogna metterli in regola o ammodernarli o ristrutturarli e questi bei milioncini della regione andranno a sostenere questo dal punto di vista impiantistico siamo un po' obsoleti ma ci si sta lavorando molto e devo dire che all'interno del CONI c'è il SIS servizio impianti sportivi dove è tra virgolette obbligatorio passare quando si progetta e programma un impianto sportivo per avere l'ok del CONI sia per i finanziamenti sia per fare approvare la struttura dal punto di vista tecnico e i progetti nuovi sono aumentati molti siamo passati dal periodo covid di qualche decina a un centinaio di progetti nuovi in Veneto all'anno che è un bel numero tra l'altro proprio il periodo covid ha portato moltissime persone anche ad approcciarsi allo sport il fatto di essere rimasti per tanto tempo chiusi in casa ha fatto sì che moltissime persone sentissero la necessità anche di avvicinarsi sempre più all'attività sportiva il periodo covid ha fatto diminuire i tesserati naturalmente ha messo in crisi il sistema organizzato delle federazioni degli enti di promozione delle discipline associate del mondo dello sport organizzato ma ha aumentato invece lo sport di libera scelta diciamo deliberato quello che ognuno faceva per conto proprio e questo però ha portato al momento in cui ci si è liberati dal problema dell'isolamento e del covid a tornare a livello di tesserati e poi magari dico il numero in Veneto che è impressionante a livelli precedenti il covid le federazioni quasi tutte sono tornate non solo a livello di prima ma hanno avuto anche un aumento di tesserati e siamo arrivati con soddisfazione a oltre 600.000 tesserati nel Veneto con circa 13.000 società SD e 160.000 oltre 160.000 volontari a detti lavori che sostengono questo movimento quindi questo ci fa capire l'entità di questa macchina anche a me piace dire siamo un popolo un popolo che lavora lavora quasi completamente gratis anche se questa poco bella riforma dello sport ci ha messo in crisi e mi fermo perché altrimenti apriremo una valanga questo popolo che lavora molto lavora a favore dei ragazzi e delle ragazze senza chiedere quasi niente niente per se stesso ma chiede tutto per i ragazzi che segue che li aiuta e facendo questo li aiuta a crescere bene qualcuno poi andrà a Parigi alle Olimpiadi e magari vincerà ma tutti cresceranno meglio senza altro e facciamo un in bocca al lupo naturalmente a tutti gli atleti della nostra regione quelli che andranno a Parigi ma non solo perché l'importante è anche partecipare a tutti i livelli proprio perché come dicevamo lo sport significa anche salute ed è quindi un appello a tutti a praticare l'attività sportiva proprio per la salute assolutamente sì il valore diciamo preventivo addirittura adesso si dice anche curativo della pratica sportiva e lo dimostrano tutti i protocolli che riguardano l'aspetto cardiocircolatorio ma non solo insomma e quindi noi auspichiamo che questo venga valutato e che con tutti i problemi annessi e connessi che ci sono magari una percentuale infinitesimale del budget dedicato alla salute venga messo come in qualche modo fa anche la regione Veneto con le palestre della salute e alcune iniziative venga messo pro sport e questo sarebbe di grande aiuto per tutto il nostro movimento un duplice investimento esattamente grazie mille allora a Dino Ponchio presidente del CONI del Veneto per essere per essere stato con noi per aver trovato il tempo insomma di venirci a trovare sappiamo che sono giornate anche molto dense di appuntamenti per lei e quindi grazie davvero davvero ancora noi continuiamo a parlare di un'iniziativa sportiva perché collegata alle Olimpiadi Milano Cortina del 2026 perché a Belluno è stato inaugurato un master in ospitalità a grandi eventi proprio in relazione alle Olimpiadi invernali del 2026 vediamo questa è una veste che ricopro per la prima volta e mi crea un po' di disagio perché chiaramente non è il mio dall'agonismo puro alla cattedra Cristian Ghedina 5 Olimpiadi 3 medaglie mondiali e 13 vittorie in Coppa del Mondo è il direttore del master executive ospitalità ed eventi giochi olimpici e paralimpici 2026 la vernice del prestigioso corso questa mattina nell'aula magna del liceo Lollino di Belluno davanti a una folta platea di studenti che dal prossimo mese di maggio si ritroveranno in presenza e da remoto negli spazi della scuola superiore per mediatori linguistici in via Flavio Ostilio per ottenere un risultato cercare di offrire inclusività e ospitalità devono studiare e vedere per ogni settore che uno si dedica farlo al meglio che possono perché per ottenere il risultato devi stringere i denti impegnarti il master mira a fornire gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le sfide logistiche organizzative e comunicative di un evento di portata internazionale come le Olimpiadi cento ore complessive di lezioni saranno tenute da docenti di chiara fama esperti nelle discipline economiche e turistiche bella idea ha detto Giovanni Malagò presidente della fondazione Milano Cortina 2026 cerchiamo di formare delle persone che vengono a supportare prima durante e dopo il più grande evento sportivo del mondo penso che i giovani si appassioneranno a questo progetto sempre di più cercano di ragionare e pensare come dare delle risposte sulla loro vita professionale in futuro attraverso e dentro il mondo dello sport Il presidente Malagò ha inviato il suo messaggio di saluto da remoto al pari del suo vice e presidente del comitato italiano paralimpico Luca Pancalli Prepareremo professionisti tra virgolette capaci non soltanto di gestire al meglio gli aspetti naturalmente gli aspetti organizzativi di un evento sportivo di tale portata ma anche contribuire alla creazione di un ambiente veramente inclusivo e accessibile a tutti Ed ora torniamo in provincia di Treviso con Daniela Sizia andiamo a Mogliano dove questa mattina è stata inaugurata la tanto attesa pista ciclabile che collega le due province da Mogliano quindi a Mestre Ci troviamo nel cuore di Mogliano lo vedete alle mie spalle il comune sono in compagnia del sindaco Davide Bortolato oggi giornata importante perché c'è l'inaugurazione della riqualificazione del terraglio e della pista ciclopedonale che collegherà Mogliano Venezia un'opera importante questa soprattutto attesa dai cittadini sindaco si un'opera importantissima oggi è un giorno di festa perché inauguriamo questo collegamento tra Mogliano e Venezia il terraglio la nostra napoleonica torna a splendere con 127 nuovi platani 56 lampioni e una pista separata per pedoni e ciclisti quindi il terraglio diventa una strada urbana una strada vivibile finalmente per i tanti che la percorrono in bicicletta e a piedi ecco fra l'altro il terraglio lo sappiamo è una strada pericolosa e questa è anche una sicurezza proprio per i ciclisti una riqualificazione volta proprio anche la sicurezza delle persone il terraglio è molto abitato ci sono case ci sono attività produttive il terraglio è una bellissima strada circondata da ville e oggi è ancora più splendente il terraglio che è la città di Mogliano è la perla del terraglio da oggi splende ancora di più ecco qualche dato su questa pista ciclo per donare sia come costi sia invece come lunghezza 2 milioni e 400 mila euro fondi PNRR la lunghezza è di 2 chilometri dicevo prima 127 platani purtroppo nel tempo tanti erano morti e questa strada torna a essere quella che era una volta un tempo un boulevard bellissimo anche una volta lo ricordo era diviso da dei paracari cioè i pedoni ciclisti erano divisi rispetto ai carri e alle auto da dei paracari adesso abbiamo questa cordonata questa pista ciclabile insomma ciclo pedonale separata in sicurezza Sindaco tutti in bici per questa giornata di festa sì è una giornata di festa oggi partiamo dal municipio arriviamo lì al parco della legalità a Marocco e lì ci sarà una bella festa insomma tutti in bici un'opera attesa voluta e attesa dai cittadini e qui da Mogliano è davvero tutto la linea allo studio grazie allora noi siamo al termine di questa edizione vi ricordo l'appuntamento domani 7 aprile su Antenna 3 con la nostra prima edizione perché vi racconteremo in diretta le cerimonie per l'ottantesimo anniversario del bombardamento che il 7 aprile del 1944 distrusse la città di Treviso la deposizione della corona dall'oro alla lapide di fronte allo scalone del palazzo dei 300 poi i rintocchi della campana dalla torre civica infine novità di quest'anno ottantesimo anniversario il sorvolo delle frecce tricolori è tutto dunque io vi ringrazio per essere stati con noi vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo arrivederci Tremonti impianti professionali per saldatura e taglio riparazioni taratura e calibrazione impianti a Montebelluna ben trovati al meteo nel weekend si rafforza l'alta pressione bel tempo e valori termici decisamente oltre la norma tipici della tarda primavera o di inizio estate il dettaglio di sabato 6 aprile sul Veneto tanto sole e cielo in prevalenza sereno probabili foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde precipitazioni assenti temperature in aumento minime tra 8 e 11 gradi massime tra 18 e 22 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche in questo caso ampio soleggiamento cielo velato salvo addensamenti in genere innocui in corrispondenza dei monti temperature minime tra 8 e 13 gradi massime sui 18-19 gradi all'incirca infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove il tempo sarà asciutto e stabile e prevalentemente soleggiato temperature minime sugli 8-9 gradi massime intorno ai 24-25 gradi dal meteo di Antena 3 per ora è tutto arrivederci Tremonti impianti professionali per saldatura e taglio riparazioni taratura e calibrazione impianti a Montebelluna di Antena 3